Ragazzi benvenuti finalmente in Fortnite Remix 2 Infatti si ragazzi nella prossima stagione finalmente torneremo nella mappa del capitolo 2 Completamente oggi con le vecchie armi, il vecchio loot, la vecchia grafica E soprattutto le vecchie skin del pass battaglia completamente rimodellate Ma soprattutto ragazzi preparatevi per l'evento finale che sta per arrivare nei prossimi giorni Prima però ragazzi avete solo 5 secondi per lasciare like e iscrivervi al canale Se anche voi non vedete l'ora di tornare nel vecchio Fortnite Quindi veloci 5, 4, 3, 2, 1 Andiamo subito in partita Perfetto ragazzi adesso stiamo finalmente per scendere in partita Mi raccomando però prima andate nello shop e mettete anche voi il codice creatore Naxx con 2x mi raccomando ragazzi premete cerca Ovviamente solo se siete dei veri fan Mi raccomando codice Naxx con 2x adesso andiamo subitissimo in partita Perché oggi raga finalmente vi darò tutte quante le notizie che dovete assolutamente conoscere Riguardo la prossima stagione Fortnite Remix 2 Ok ragazzi ormai credo proprio che sia arrivato il momento di dire completamente addio a tutta la mappa A tutte quante le città di Fortnite Infatti mancano soltanto 7 giorni all'evento finale che distruggerà completamente questa mappa Intanto direi di atterrarmene qua al Monte Olimpo perché raga non ci va letteralmente mai nessuno Così raga abbiamo tempo di parlare con calma Tra l'altro raga è bellissima veramente sta zucca qua In cima alla statua veramente bellissima Ah cheat non ci va mai nessuno raga C'è un botto di gente vabbè come non detto Comunque ragazzi non so se vi ricordate nello scorso video vi avevo mostrato delle immagini Pubblicate da Fortnite ufficialmente appunto dei teaser Che proprio ci andavano a svelare un sacco di skin del post battaglia E riguarda appunto anche tantissimi indizi Della prossima stagione Fortnite Remix 2 Che sarà appunto il ritorno del capitolo 2 Quindi raga adesso andiamole un attimo a rivedere Perché vi devo veramente far vedere un sacco di notizie Parlare di un sacco di cose Bene ragazzi in questa immagine con tutti quanti questi indizi Possiamo vedere un sacco di cose Tra cui innanzitutto raga le skin che avremo nel prossimo pass battaglia Solo alcune purtroppo Ad esempio ragazzi abbiamo una nuova skin dello slime Che ancora non sappiamo come potrebbe essere Poi attenzione ragazzi una nuova versione di Mida Mischiata praticamente a Miauscolo Cioè raga praticamente sarà tipo un Mida con la testa di Miauscolo Oppure un Miauscolo tipo stile Mida Cioè raga veramente una figata di skin che sta per arrivare E infine sembra esserci appunto una skin di nitroglicerina mischiata Ad Oceania Che è praticamente un'altra skin del capitolo 2 di Fortnite Perciò al momento ragazzi conosciamo queste tre skin C'è un nemico raga da killare qua davanti Vediamo un po' di killarlo subitissimo Eccolo qua Eliminato subito bro Perfetto Bene appunto dicevo ci sono queste tre skin Ma ovviamente nel pass battaglia ne avremo altre Vi ricordo ragazzi che il prossimo pass battaglia Dovrebbe avere massimo 50 livelli Quindi non sarà un mega pass battaglia Come quelli appunto delle normali stagioni Ma sarà un mini pass Proprio perché appunto la season durerà soltanto 30 giorni invece di 2 mesi Quindi raga ovviamente sarà una stagione molto più corta Con un pass battaglia più piccolo Però effettivamente ragazzi In questa immagine che vi ho mostrato prima Che è esattamente questa qua Bene ci sono anche altre cose molto interessanti Che già vi ho mostrato nello scorso video Però raga nello scorso video mi sono dimenticato Volutamente in realtà Meglio in realtà me lo sono completamente scordato Ma adesso che ci penso È praticamente una cosa fighissima In modo che almeno ne riparlo proprio oggi Ma nello scorso video raga Mi sono praticamente dimenticato In un modo assurdo Di parlare della farfalla Che tutti quanti potete vedere Proprio là ragazzi Accanto praticamente Alla nuova versione di Miaos Colomida Non sappiamo ancora cosa sia C'è una farfalla Rift Bene ragazzi Questo è un simbolo Veramente veramente Importantissimo su Fortnite Infatti le farfalle E non parlo raga delle farfalle che volano liberamente Nei campi di Fortnite Ma sto parlando esattamente Dei rift farfalla Sono praticamente sempre stati al centro Della storia di Fortnite Già nel capitolo 1 Ma anche nel capitolo 2 Come ad esempio raga Quando abbiamo sconfitto Galactus All'interno della season marvel Del capitolo 2 Come vedete Quando Galactus precipita Si crea una sorta di farfalla E ovviamente Non era assolutamente Fatto a caso raga Insomma Queste farfalle rift Ci hanno accompagnato Praticamente nella vecchia storia di Fortnite Dal capitolo 1 2 Al capitolo 4 Insomma ragazzi Queste farfalle di Fortnite Ci hanno accompagnato Praticamente nella vecchia storia di Fortnite Già dal capitolo 1 e 2 E ovviamente raga Siccome nella prossima stagione Torneremo proprio Nella vecchia mappa Appunto del capitolo 2 È chiaro ragazzi Che c'entra qualcosa Appunto Questa farfalla Bene ci sono due teorie Che stanno circolando In questi ultimi giorni E per forza raga Una di questi due È sicuramente ufficiale Quindi mi raccomando Ascoltate bene Bene ragazzi Probabilmente tra l'altro Oh mio dio C'è questo bunker Completamente aperto Ok raga La potenza del codice NAC Secondo X E la fortuna del codice NAC Secondo X Mi ha fatto trovare Questo bunker aperto Mamma mia raga Pieno di loot Ok appunto Vi stavo dicendo ragazzi Che le opzioni sono ben due La prima riguarda il fatto Che questa farfalla Potrebbe tornare Nell'evento finale Di questa stagione Quindi in qualche modo ragazzi Tipo vedremo l'evento finale E alla fine dell'evento Ci sarà questa farfalla Che ci teletrasporterà In qualche modo All'interno del capitolo 2 E in questo caso ragazzi Beh io veramente Impazzirei Cioè immaginatevi ragazzi Di vedere l'evento Tutti quanti tranquilli E poi alla fine Boom Sbuca la farfalla di Fortnite E ci riporta nel vecchio Fortnite Nel capitolo 2 Questa però appunto È soltanto una teoria L'altra Che secondo me È anche quella Un pochettino più probabile Visto che Fortnite Stiamo vedendo Che insomma ultimamente Non è che sta puntando Molto sulla storyline L'altra opzione raga È il fatto che questa farfalla Sia semplicemente un simbolo Che magari potremo vedere All'interno della prossima stagione Quindi non ci sarà Proprio un rift farfalla Nell'evento Ma semplicemente Boh sarà tipo Un cosmetico Tipo che ne so Un deltaplano Oppure semplicemente Un simbolo Che vedremo all'interno Della prossima season Quindi niente di importante Ecco queste sono le due opzioni O la vedremo nell'evento ragazzi Oppure sarà soltanto Un simbolo questa farfalla Ovviamente scrivete nei commenti La vostra opinione Magari ne avete anche una terza Quindi fatemela sapere Nei commenti Una cosa però ragazzi Al certa Al cento per cento Ovvero che la mappa Di questa stagione Del capitolo 5 Che abbiamo conosciuto Nell'ultimo anno di fortnite Sarà completamente cancellata Non tornerà mai più ragazzi Mai più tornerà Questa mappa di fortnite Quindi raga Preparatevi di già Salutarla completamente Per l'ultima volta E che cavolo è che mi spara Io veramente non ho parole E eliminato il bro Che si chiamava bro Qualcosa raga Incredibile E la mappa che arriverà ragazzi Sarà esattamente Quella del capitolo 2 Niente modifiche Ma completamente identica Al passato Ma attenzione ragazzi Perché la cosa bella Di questa mappa È che non sarà stabile Tutta quanta la stagione Ma cambierà nel tempo Proprio come nel capitolo 2 Come appunto Il passare delle stagioni Quindi ci sarà ovviamente La prima stagione In cui avremo tutta quanta La mappa nuova La stagione 2 In cui tornerà l'agenzia Tornerà a Mide Torneranno appunto Tutti quanti i vecchi boss Che abbiamo conosciuto Amato nel capitolo 2 E infine ragazzi La stagione 3 In cui la mappa di fortnite Era stata completamente Inondata E praticamente C'erano tipo Sopravvissute Soltanto 4 città Insieme a questo Ovviamente Tornerà anche Tutto quanto Il vecchio loot Quindi anche Le canne da pesca Ragazzi Si torneranno Finalmente Che in questa stagione Credo che nessuno Le stia utilizzando Probabilmente Anche le fantastiche Barche I motoscafi Che state vedendo Ragazzi Che erano veramente Divertentissime Da usare Anche perché Le usavamo anche Come macchine Sì raga Quando non c'erano Le macchine Usavamo i motoscafi Sulla terra Quindi sì ragazzi Questa sarà La mappa Della prossima Stagione Ufficiale Ma adesso Sono sicuro Che tutti quanti Starete per fare Una domanda Nei commenti Va bene Nax Tutto quanto Bellissimo Ma dov'è Il timer Dell'evento C'è praticamente Doveva arrivare In questi giorni Il timer Dell'evento Invece Beh dov'è Raga Nella mappa Non c'è Nella lobby Non c'è Fortress Non ha annunciato Niente Quindi l'evento Sarà tipo Cancellato In qualche modo Beh ragazzi Tranquilli No Non sarà Cancellato L'evento Nei file Di gioco Ragazzi È presente Un evento E è Praticamente Sicuro Che lo avremo In questa season A quando dovrebbe Arrivare il timer Bene Probabilmente Ragazzi Col prossimo Mini aggiornamento Che dovrebbe essere In teoria A giorni Tipo raga Domani o Dopodomani Dovrebbe uscire Questo aggiornamento O addirittura Oggi che sto Registrando il video Cioè Non lo sappiamo Ancora Bene insomma Raga Veramente Fra pochissimo Dovrebbe uscire Un mini aggiornamento Che non cambierà Niente in gioco Quindi rimarrà Tutto quanto uguale Ma questo aggiornamento Aggiungerà All'interno di fortnite L'evento finale Quindi raga A quel punto Comparirà Il timer Nella mappa E lì raga Faremo anche Un altro video In cui cercherò Di spiegarvi Appunto Tutto quello Che sappiamo Riguardo l'evento Perché ovviamente Ci saranno Anche un sacco Di novità Che adesso Non conosciamo ancora Perciò raga Iscrizione Campanella attiva Per non perdervi I prossimi video news Anche perché ragazzi Come già vi ho detto Negli scorsi video Il timer dell'evento Questa casetta Vicino al doom Stat e appunto Alla zona in generale Di dottor doom Qua dovrebbe appunto Comparire il timer E quindi probabilmente Raga l'evento finale Sarà in quella zona Tra l'altro ragazzi Questo evento Avrà anche una modalità Completamente dedicata Quindi non lo potete fare In battagliare Non lo potete fare In zero costruzioni Nei list a squadre Ma appunto Dovrete entrare In una modalità Specifica Che ci sarà Nell'evento E tranquilli Vi spiegherò Tutto quanto Nel prossimo video news Quindi mi raccomando Raga Non ve lo perdete Potete assolutamente Attivare la campanella E iscrivervi al canale Ragazzi fondamentale Oddio ragazzi Abbiamo trovato Un tryhardone assurdo Cioè questo qua È veramente Un sudato Guardate raga Che sudato E la madonna 14 kill Si chiama toxic Vabbè ho capito Abbiamo già capito Che player è ragazzi Però raga Prima di concludere il video Cerchiamo di capire Al meglio Quali potrebbero essere Le skin del pass battaglia Ve l'ho già effettivamente Mostrate prima All'interno di questa immagine Cioè di questa immagine qua Ragazzi Praticamente con La faccia di miauscolo Lo slime E la testa di nitroglicerina Strana Effettivamente Le skin infatti Ragazzi potrebbero essere Più o meno in questo modo Il signor Mida potrebbe essere Cioè Così raga Con la testa di miauscolo Sarebbe veramente bellissimo Dello slime in realtà Ancora non sappiamo niente Lo stesso anche di nitroglicerina Per chi comunque Ancora non conosce nitroglicerina Ragazzi ve la faccio vedere Praticamente all'interno Del mio armadietto È praticamente Questa skin qua Se magari caricasse Eccola qua Magari non dorata ragazzi La prendiamo versione normale È esattamente questa skin Alcuni raga Ai tempi Dicevano essere tipo La fidanzata di mia Insomma non lo sappiamo Ma comunque insomma È una skin molto importante Che tomberrà su Fortnite Quindi detto questo raga Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video In cui speriamo Che sarà uscito l'aggiornamento Il mini aggiornamento In cui non inseriranno niente Ma in cui appunto Ci saranno dei nuovi leaks Delle nuove appunto Immagini In anteprima Dell'evento finale Speriamo che compaia il timer Sia all'interno della lobby Sia all'interno del gioco Noi ci vediamo alla prossima Bella ragazzola